cyber security cioè uso sicuro della rete il cyber è un acceleratore per il futuro ed è una chiave per il presente ma noi dobbiamo tenere in conto il fatto che il cyber è diventato anche un mondo nel quale l'uso della rete può portare alla consumazione di creati veri e propri cyber distortion cyber terrorism cyber laundering ma anche mercati neri virtuali su questo lato oscuro noi lavoriamo con un programma di innovazione e regolamentazione due concetti che si devono fondere tra di loro per creare noi professionisti che sappiano usare la rete ma sappiano anche prevenire gli illeciti che da essa possono derivare